Vigilia di Latina Avellino, vigilia di una partita che potrebbe farci rimettere piede già da domani nel calcio professionistico dove dopo un anno, il cosiddetto anno della rinascita, passato nell'inferno di questi campetti di periferia, insomma l'Avellino può finalmente sperare di tornare in una categoria più consona, anche se sappiamo che per la passione, per il seguito che ha la squadra bianco-verde sono ben altri i palcoscenici che ci aspettano, prima però di arrivarci bisogna battere il Latina e sperare che al contempo anche il Lanusei magari si fermi contro la lupa Roma, insomma non è semplice però per questa squadra che ha già raccolto nove vittorie consecutive non è impossibile assolutamente, anzi ai mezzi la squadra di Giovanni Bucaro per conseguire la decima vittoria consecutiva contro una compagine, ricordiamolo, quello del Latina, costruita per vincere, è distante ormai fuori dai giochi dei play-off ma resta una squadra dalle grandi individualità e non a caso lo dimostra attraverso i numeri della difesa e dell'attacco. Sul fronte dell'Avellino invece che cosa possiamo dire? Semplicemente che è stata fatta la rifinitura questa mattina, che la squadra si è trasferita in una località segreta di Latina, non è stata rivelata per disposizione della Digos, che si va verso la conferma del 4-4-2 con Sforzini e Alfageme, unico ballottaggio nell'undici, ma poi c'è la notizia positiva dell'ultima ora, la notizia che il prefetto di Latina ha colto la richiesta di un ulteriore stock di biglietti, se ne attendevano e si sperava in qualcosa di più, però altri 100 fortunati, così possiamo definirli, potranno assistere alla gara del Francioni. Mi dispiace purtroppo per quanti come gli amici del Club Roma, Avellino Club Roma che ascolteremo tra poco, per loro che hanno seguito il campionato dell'Avellino in tutte le trasferte, anche in tante partite casalinghe, non ci sarà la possibilità come non ci sarà per altri amici fuori provincia, penso a chi viene da Livorno, come la Micanella Arace o a Franco di Castel San Giorgio e San Giorgio del Sannio, tanti amici che purtroppo non saranno presenti al Francioni, ma ci saremo noi come sempre dallo scorso settembre, per noi sarà la quarantesima telecronaca di questo campionato, nella speranza di potervi trasmettere come sempre grandi emozioni e soprattutto di poter registrare finalmente il passaggio in Lega Pro.